Buongiorno e ben trovati da Cattolica, oggi siamo con Roberto Benedettini che è il titolare dell'hotel Esperia. Buongiorno Roberto. Buongiorno. Allora la stagione è ripartita, sono stati i primi due weekend d'estate, come sono andati innanzitutto? Siamo contenti insomma, abbiamo visto ritornare tanti clienti fedeli, poi abbiamo approntato delle modifiche alla struttura, ci siamo trasformati in B&B quindi siamo pronti ad accogliere. Non c'è la cucina quest'anno? Quindi quest'anno non c'è la cucina. Benissimo, ora siete a poca distanza dal mare, perché sono circa un centinaio. Come è la situazione spiagge qui a Cattolica? È tutto molto tranquillo, i bagnini si sono organizzati per accogliere i nostri ospiti, è tutto ben pulito, il mare è splendido, quindi direi che i turisti possono venire in tutta sicurezza. Bene, un messaggio allora positivo da Cattolica. Allora Roberto, vogliamo dare i dati dell'hotel per potervi contattare e eventualmente prenotare? Beh certamente, ci farebbe piacere, accogliervi e potete telefonarci allo 0541 96 13 99, oppure andare sul nostro sito e fare un preventivo ed eventualmente prenotare, semplicemente con cancellazione gratuita e di conseguenza insomma vi aspettiamo. Abbraccio aperto. Benissimo, allora, Hotel Esperia, Roberto Benedettini vi aspetta a Cattolica. Buon'estate a tutti. Arrivederci a presto. Grazie a tutti.